Come giovane maestro, quali sono stati i tuoi maestri? Chi riconosci in questo ruolo e nel caso hai degli allievi? Mi viene molto da ridere sinceramente, mentre c'è in questo momento, però al di là di tutto sicuramente di maestri veri e propri non ne ho, non ne ho mai avuti, non ho mai collaborato con studi eccetera, quindi ho iniziato da solo facendo la gavetta. Grazie.